Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa 5 km di coda per incidente tra Prato Est e Prato Ovest, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI per lavori 3 km di coda tra Ginestra ed Empoli Est in direzione mare, 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze, chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Per traffico intenso, code in uscita all'astra a Signa in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, possibili disagi nel tratto tra Casetta-Monteaperti e Rapolano-Terme. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!